Bene Comune è anche ANM, ieri la riunione con De Luca, come è andata, quali saranno i prossimi passi? Bene Comune è il trasporto pubblico e la mobilità, di cui ANM dovrebbe garantire, e questo è il nostro obiettivo, un servizio sempre più efficiente. La nostra strategia, la nostra proposta e la nostra offerta è il massimo che si può ottenere in questo momento storico. Ieri abbiamo avuto un incontro proficuo, utile e costruttivo con il Presidente della Regione, l'avevo detto più volte di non avere dubbi che la Regione avrebbe fatto nell'ambito delle sue competenze la sua parte e ieri ne ho avuto conferma, un incontro di un'ora con il Presidente De Luca, con tutto il suo staff e il mio staff che ha competenza ovviamente sul trasporto. Sono molto fiducioso che stiamo a rush finale per raggiungere l'obiettivo di salvare ANM e rilanciarlo, non licenziare nemmeno un lavoratore, garantire diritti, puntare all'efficienza del servizio, pensare alla nostra città e ai nostri cittadini e poi mandato tolleranza zero nei confronti di Furbetti e Marioli. È finita la pacchia.